Grazie a tutti. Grazie a tutti. I casi, come vedete, sono 414 rispetto ai 2016 tamponi tra molecolari e antigenici, 58 i positivi emersi dai molecolari, mentre 356 i casi registrati dai test rapidi. L'indice di contagiosità è al 20,5%, guarite 263 persone e quindi gli attualmente positivi sono saliti a 8.024. Ed ora la politica. Poche ore dall'incontro tra i coordinatori di centrodestra, Toma critica i leader dei partiti. I rapporti, dice, si sono scuciti perché pensavano di agire senza avvisarmi. Poi avverte, non interferiscano sulle linee stabilite dal Consiglio, ma l'unità per il Presidente è possibile. Sentiamo Valentina Ciarlante. Regionali si vota tra un anno, probabilmente con un election day che prevederà anche le politiche. Il clima si va già infuocando. Il centrodestra, che in questi quattro anni ha vissuto mille stagioni politiche e che è andato via via frantumandosi, cerca di rinsaldarsi mettendo da parte Beghe e la delusione delle comunali di Sernia. Intanto il governatore Toma lancia un avvertimento chiaro ai leader dei partiti, che stiano fuori dalle dinamiche del Consiglio. Lui con una calma serafica, dopo che i coordinatori regionali di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia hanno bevuto un caffè insieme proprio a Sernia, iniziando a mettere sul tavolo il metodo per la scelta della candidatura principale, cioè quella Presidente della Regione, si dichiara disposto a sostenere l'unità dello schieramento, non nascondendo la sua stizza per quanto accaduto in questi anni. È bene che i coordinatori dei partiti si vedano. Nel passato era stato chiesto a me di riunire i tavoli politici, ma io non sono un coordinatore di partito. Io devo fare riferimento al mio ombrello politico, che è il centrodestra e che è Forza Italia. Sono poi i coordinatori che debbono muoversi ai tavoli giusti e fare sintesi e ricucire i rapporti come si conviene. Tenga presente che nel passato talunni i rapporti si sono un po' scusciti, ma non certo per colpa mia, ma perché magari i leader dei partiti pensavano di poter agire in questa regione senza avvisare il Presidente. E invece adesso come stanno le cose? Adesso se vuole sapere la mia versione dei fatti è che c'è apertura completa, come c'è sempre stata. L'apertura completa significa che col Presidente della Regione se si chiede di parlare si può parlare, ma significa anche non interferire sulle linee strategiche che il Consiglio regionale ha adottato, perché interferendolo sulle linee strategiche si tradisce anche il consenso che il cittadino ha dato alla coalizione centrodestra. Toma quindi bacchetta ai coordinatori dei partiti e si smarca dalle responsabilità politiche delle fratture interne al centrodestra. Qualche grana in effetti ha dovuto affrontarla. All'atto dell'insediamento l'espulsione di due elette dalla Lega, poi è arrivata l'opposizione di Fratelli d'Italia, soprattutto in seguito alla mossa dell'abolizione della surroga e quindi le bordate di Di Sandro Iorio e Romagnuolo, posizioni distoniche da quella dell'uomo di fiducia di Toma, l'assessore Pallante, storico esponente del partito della Meloni, poi la sfiducia sfiorata grazie a un'altra mossa, la nomina di Calenda Assessora. Ultimamente invece sono piovute le critiche della coordinatrice del suo partito, Tartaglione. Insomma, un campo minato in cui Toma se l'è cavata con scelte a volte ardite. Sulla base di questo sarà ancora lui il candidato presidente? Lei vede all'orizzonte una sintesi, magari sul suo nome per una ricandidatura presidente? Allora guardi, in politica la sintesi è l'orizzonte, perché se il centrodestra non facesse sintesi, facendo anche ammenda ognuno delle proprie colpe, fra virgolette, io non penso che ci siano particolari colpe se non di natura politica, la sintesi si deve necessariamente completare. Poi vedremo su quale nome si farà la sintesi. Ed ora ai quotidiani di oggi, iniziamo dal locale Primo Piano Molise, che apre con la politica centrodestra. Toma, porte aperte ai coordinatori, ma non accetto interferenze. Il presidente giudica positiva la reunion di Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia. A nessuno però venga in mente di influenzare le decisioni o di agire senza avvisarmi, avverte il presidente Toma. Sanità, bando per prorogare i medici venezuelani. Pediatria, Santillo firma il contratto da primario. Indice di vulnerabilità dei comuni. Il codice manda K.O. il Molise Altissimo. Paglione, il sindaco di Capracotta, lancia l'allarme. La nuova classificazione ci considera area non marginale a rischio l'assegnazione dei fondi del PNRR. C'è anche il bollettino su primo piano. Molise, un decesso, un ricovero, 414 contagi, più di 8 mila i casi attivi. Piano dei trasporti. Spariscono un milione di chilometri e 156 corse. Ucraina, via dall'inferno, a piedi scalzi, mamma e figlie accolte a limosano. Termoli, oggi rientra la salma. Domani funerali di padre Luigi Russo, cordoglio unanime. E poi una notizia che riguarda Campobasso. Antenna telefonica installata nel giorno della mozione che tempistica nel taglio basso di primo piano Molise. Il caso, commissione pari opportunità, la garante si schiera con la selva. Lanciano chiede al Consiglio di respingere le dimissioni. Nel taglio alto troviamo invece le notizie di sport. Foggia Lupi, tanti tifosi al seguito, solo una vittoria rosso-blu allo Zaccheria. Scendiamo in eccellenza, Lisernia si prepara al doppio confronto tra campionato e Coppa. E infine il basket, Gioia Magnolia, Baldassarre, convocata in nazionale Under-15. Ed ora passiamo ai titoli della stampa nazionale. Iniziamo come sempre da quelli del messaggero. Putin, il gas si paga in rubli, guerra sui mercati dell'energia, prezzi impazziti, l'Unione Europea, confischeremo i depositi Gazprom, Biden in Europa, armi chimiche, minaccia reale, la Nato è pronta, in arrivo più soldati. Vedete le foto in prima pagina, un mese in Ucraina, il 24 febbraio, l'invasione, orrore, profughi, sangue e povertà. Fronte ucraino, Irpin, torna nostra, ma i russi usano bombe al fosforo, denunciano i cittadini. Piano di Bruxelles, sia ad aiuti di Stato e l'IVA sugli alimenti, ora si può tagliare. Meloni, il PNRR, con la guerra va ricontrattato. La presidente di Fratelli d'Italia, Messaggero TV, il leader del centrodestra, non si può scegliere, dice a tavolino. E poi terreni coltivabili, svolta italiana, 200 mila ettari di nuovi granai. Dal Messaggero passiamo adesso ai titoli del Corriere della Sera, anche qui si parla di armi chimiche. Lo spettro delle armi chimiche titola oggi il Corriere, la guerra in Europa. Kiev usano bombe al fosforo, Biden minaccia reale e oggi arriva a Bruxelles. Draghi, spesa militare al 2% del PIL. Le prime crepe al Cremlino, l'inviato dello zar, la sciamosca, il dissenso. E poi energia, gas, la sfida di Putin, pagatecelo in rubli, il balzo dei prezzi, i nodi di import e sanzioni. Il giallo invece, per quanto riguarda ferrovie italiane, attacco degli hacker, i sospetti sui russi, biglietterie, in tilt e disagi. Dal Corriere della Sera alle notizie adesso della Repubblica. Zelensky, la guerra lampo di Putin è fallita. Intervista al Presidente ucraino. Le nostre città sono devastate, ma noi resistiamo. Il nemico è demoralizzato. Prime defezioni russe, l'ex vicepremier lascia il paese, il sindaco di Kiev, Irpin, quasi riconquistata. I campi allagati fermano i tank. La mossa del Cremlino per aggirare le sanzioni, solo rubli per il nostro gas. Draghi pressa l'Unione Europea e prepara nuovi ristori anche in deficit. Oggi Biden sarà in Europa, le linee rosse Nato contro l'uso delle armi chimiche di Mosca. Diritti poi, le afghane tradite dai talebani, scuole riaperte e subito chiuse. Il commento invece riguarda l'errore siriano di Obama. E sempre approfondimenti, il mese che ha cambiato il mondo è un mese che è scoppiato il conflitto in Ucraina. Domani, sul venerdì, una giornata in Russia davanti alla TV, la guerra raccontata dalla disinformazione. Ed ora le notizie del fatto quotidiano. Si parla ovviamente sempre del conflitto tra Russia e Ucraina. Putin ci frega sul rublo e aggira le sanzioni, titola oggi il fatto quotidiano. Altro che default, non più dollari o euro, solo moneta russa che si rafforza il gas alle stelle. E Zelensky ora difende Abramovic. Unione Europea, Ucraina lontana. Per entrarci, Kiev deve prima liberarsi degli oligarchi, combattere il sistema corruttivo e garantire più diritti. Il racconto dello scrittore, il mio viaggio al confine, sul ponte dei Giocattoli. La capitale nella morsa russa, checkpoint Kiev, speranze e cadaveri degli assediati. Nel taglio alto, Draghi riesuma Hitler e vuol più soldi in armi, spesa militare al 2% per la Nato. Sempre nel taglio alto, PD contro Berlinguer per Orsini, chi dissente è fuori. Ed ora le notizie economiche del sole 24 ore. Sfida di Putin, solo rubli per il gas, il prezzo sale fino al 34%, borse giù, guerra e sanzioni. I diktat del presidente russo su fornitura ai paesi ostili, Berlino violati i contratti. I listini volano sui timori di stabilità delle forniture, Gazprom rischio boomerang. Il piano dell'Unione Europea per il gas riserve e acquisti comuni, Draghi, Eurobond, anche per clima, energia e difesa. Una task force negozierà con i fornitori per tutti i 27 Breton via dal gas russo. Lo shock energetico, Franco, il PIL rallenterà, visco con questi prezzi le imprese non ce la fanno. E poi, l'appello per la pace che arriva da Papa Francesco, la guerra non è mai vittoria, è solo sconfitta per tutta l'umanità. E poi, nel taglio basso, l'anno record di poste, crescono utili, cantieristica, fin cantieri torna l'utile, il fatturato balza del 28% a 6,7 miliardi. Passiamo ora allo sport con le notizie della Gazzetta dello Sport. Stasera giocherà l'Italia e quindi facciamo l'Italia. Titola la Gazzetta oggi, un cuore azzurro Palermo 20 e 45, playoff mondiale. Attenzione, si va in finale con umiltà e pazienza. Stasera il primo spareggio verso Qatar 2022 contro la Macedonia del Nord. Il CT Mancini schiera l'Euro Tridente, Berardi, Immobile e Insigne. Giochiamo come siamo capaci, dice l'allenatore azzurro. Lo stadio e la città pienone al Barbera c'è la spinta dei 32 mila tifosi. Quelli che ci hanno fatto sognare, da Jacobs a Tamberi, il tifo della curva olimpica. E poi la sfida per la possibile rivale di martedì, Portogallo, l'ansia di CR7 e tanti assenti con la Turchia. Nel taglio basso ancora il calcio, dubbi sugli stipendi Juve, altre accuse di falso in bilancio, plus valenze e perquisizioni. Un futuro da decidere, bomber o dirigente, Ibra per il Milan, si taglia l'ingaggio. E poi firma fino al 2026 all'Inter, rinnova anche Brozovic, ora lo scudetto, dice. E questa era la nostra ultima notizia. Diamo uno sguardo al palinsesto di questo giovedì 24 marzo. Alle 11 film Radio Out, alle 12 Camminando Molise, alle 14 il TG News, alle 17 Punto Verde, 19.30 seconda edizione del nostro telegiornale. Poi non perdete alle 20 Salus TV e alle 21 Molise Sport. E con questo è davvero tutto, grazie per averci seguito, io vi auguro una buona giornata. Arrivederci. Grazie a tutti.